Allora chiamerei sul palco Edoardo Bernardi di Estero Der Buongiorno, grazie Ci rimettiamo più vicini Allora, pure voi crescete molto, mi sembra, dai numeri che ho visto Sì, direi di sì Qual è il trend di crescita in Italia? Abbiamo visto delle crescite con i dati allo scorso fine giugno Circa del 30% nei due anni precedenti Devo dire che quest'anno chiuderemo, i dati ovviamente non sono ancora ufficiali Chiuderemo di nuovo a fine giugno un altro anno fiscale E le nostre crescite sono sostanzialmente in linea con quello che abbiamo fatto negli anni precedenti Direi che abbiamo avuto la fortuna e l'abilità di crescere in maniera più importante Allora, io riprendo poi magari alcune cose che ho anche sentito nel corso degli interventi precedenti La prima cosa che secondo me siamo stati, credo, bravi a fare È stato quello che ha detto Fabio Pampani Faremo decidere ai consumatori cosa sarà, voglio dire, dei nostri brand e dell'evoluzione del nostro gruppo La prima cosa che abbiamo fatto, credo, abilmente e probabilmente più rispetto agli anni precedenti È ascoltare il consumatore e cercare di capire al consumatore quali fossero le sue aspirazioni Sia di branding sia di esperienze d'acquisto Sulla base di questo credo che abbiamo correttamente allocato le nostre risorse In modo efficace rispetto a un portafoglio di brand Che per noi è circa 30 brand Quindi alla fine 30 brand si devono azionare in maniera differente rispetto a quelle che sono le aspirazioni del consumatore Quindi allocare correttamente le risorse è stata poi alla fine una ricetta di successo Soprattutto nel momento in cui il nostro gruppo, fino a qualche anno fa, era fortemente concentrato sui due fratelli maggiori Noi, stello delle cliniche, i brand storici della company C'erano 28 fratellini che però avevano tutta una serie di opportunità che credo siamo riusciti ad azionare Senta, scusi se ne interrompo, però sono molto incuriosito dal fatto che si dice ascoltare il consumatore Perché io lo do quasi come un prerequisito Perché sia lei sia prima, avete sottolineato Perché c'era un procedimento diverso prima Perché io credo che nel mondo del lusso e del mondo del prestigio C'è una componente di creatività e di posizionamento di lusso Che faceva sì che fino a un certo momento le aziende avessero la presunzione di sapere loro Cosa il consumatore volesse A un certo punto invece abbiamo capito che era più giusto, più corretto Non abbandonare la nostra componente di creatività Però comunque riuscire ovviamente a comporla rispetto alle aziende Ma quello si sente attraverso le vendite, attraverso i canali? No, questo si sente soprattutto attraverso tutta una serie di attività che sono anche più scientifiche Nel modo di consumer insight Andare a cercare di capire attraverso delle interviste e delle modalità di approfondimento Quali siano effettivamente le richieste che arrivano dal mercato di consumo Farmacia, profumeria, professionale Per dire i tre canali che poi parleremo anche dell'e-commerce Secondo lei quali sono le tendenze di questi canali e su quale puntate? Beh, allora Devo dire che questi tre canali poi hanno tutta una componente Su cui noi stiamo accelerando anche in maniera estremamente importante Che è il retail Perché noi siamo anche diventati retailer E il retail in maniera importante nel corso degli ultimi anni Io credo che ci siano Scusate, non è che voglio fare il tuttologo Ma credo che ci siano grosse opportunità ovunque Quindi tutti i canali hanno delle possibilità Un potenziale di accelerazione estremamente importante Bisogna andare a cogliere quali sono ovviamente le sacche e le opportunità di crescita Quindi quando parliamo della profumeria E di un mondo un pochettino più tradizionale di profumeria Ci sono dei concetti di esclusività di prodotto Che possono essere estremamente attraenti per il consumatore Anche in farmacia Io credo che la cosmetica possa essere fortemente stimolata Grazie a un consumo di qualità Quindi anche al servizio all'interno delle farmacie Come dicevamo poco fa Come in un mercato che apparentemente Secondo i numeri sembrerebbe essere un pochettino statico Come il settore professionale Proporsi con dei brand innovativi Mi permetto di citare il nostro Aveda Che si propone in maniera un pochettino differente rispetto ai trend storici Possa permettere delle accelerazioni Le opportunità di crescita ci sono ovunque Ci sono ovunque Ieri il nostro CEO che è italiano Fabrizio Freda Ha citato l'Italia assieme alla Cina Come uno dei mercati di maggiore crescita all'interno del gruppo Allora io credo che la Cina ci sia anche qua Bisogna riuscire ad andare a trovare l'opportunità di crescita Ma perché partivamo un po' indietro su beauty no? Perché partivamo noi come mercato un po' indietro su beauty La nostra filiale all'interno Sì Ma voglio dire È chiaro che noi essendo di estrazione Anglosassone americana Rispetto ai competitor francesi Fondamentalmente in Europa continentale Avevamo una penetrazione un pochettino più bassa Rispetto al resto del mondo Quindi l'opportunità di un'accelerazione c'era Però credo che non sia stata esclusivamente organica la crescita La crescita è stata anche legata Quanto viene percepita la qualità oggi dal consumatore Quando lei dice bisogna seguire il consumatore Beh la qualità chiaramente Percepita È il fattore di differenziazione Rispetto ovviamente a dei cluster di consumo differente La qualità a 360 gradi Incluso il servizio E la shopping experience È assolutamente Cos'è la shopping experience? Perché il retail è questa roba qua immagino Perché senza shopping experience Perché fare il retail come state facendo? Esatto Beh la shopping experience E allora il lusso si definisce come un prodotto di qualità Acquistato in un mondo con un'immagine importante Con delle modalità che siano particolarmente appaganti per il consumatore In modo tale che ci sia un premium di price che il consumatore è disponibile a pagare Avete assunto persone in Italia che siete cresciuti? Noi siamo particolarmente Io devo dire che più che parlare di numeri di crescita di fatturato o di EBITDA Sono particolarmente orgoglioso ovviamente da italiano Per il fatto che noi abbiamo più che raddoppiato il numero dei dipendenti negli ultimi 4 anni Per questa vostra crescita su retail? Sì ovviamente la maggior parte delle assunzioni arrivano dalla crescita su retail Non solo anche dalla crescita in realtà in termini di brand che abbiamo sviluppato all'interno Non è spaventato il retail in Italia che vuol dire affitti, immobili, assunzioni Il rischio poi di prendersi in carico? Beh sicuramente fa parte della complessità della gestione del business e della gestione di un mercato e di una filiale Però vuol dire anche tantissime opportunità Perché comunque è un mercato estremamente dinamico Anche da un punto di vista se vogliamo di costi La capacità di agire correttamente anche in ambiti negoziali eccetera Riesce a fare la differenza E sono retail monomarca? Sono Beh sì Allora il retail classico è un retail monomarca Noi però siamo riusciti anche, e di questo è un'altra cosa che mi fa piacere condividere A costruire dei modelli che sono poi un ibrido tra il full sale e il retail Ad esempio una delle cose che abbiamo fatto Abbiamo messo a disposizione se vogliamo Di alcuni nostri partner storici della profumeria La possibilità di aprire dei negozi monomarca con noi fondamentalmente Diventare partner, il caso più eclatante è quello di MAC Con delle aperture di monomarca Che possiamo definire anche se vi contratto al mente non esattamente così Dei franchising Sostanzialmente Questo è stato quello che io definisco un po' la partnership 2.0 Noi abbiamo costruito la profumeria con voi negli ultimi 50 anni Oggi ci sono delle modalità di successo Che è quello del retail, il retail monobrand Partecipate con noi alla crescita, alle opportunità di crescita che arrivano in queste situazioni Secondo un modello win-win Perché è chiaro che nel centro delle forse più grandi città italiane Preferisco farlo direttamente Però ci sono quelle città che noi chiamiamo tier 3, tier 4 In cui l'operatore locale, l'opinion leader locale È estremamente più forte, più consapevole rispetto a noi Proprio per la conoscenza che lei diceva prima Della clientela locale Allora aprire un monomarca di MAC A Piacenza è un caso reale In realtà con il grande dealer locale È effettivamente una strategia vincente Senta, però sono incuriosito Per cui non insisto sulla questione del retail Perché mi sembra una scelta che Rispetto a quello che abbiamo visto potrebbe sembrare Controtendenza con le chiusure del retail E volete proprio governare la filiera fino in fondo Questo è il principio Cioè non siete spaventati dal fatto che nel futuro Il mercato vada da un'altra parte Allora il mercato Nel canale Allora il mercato Noi abbiamo parlato tantissimo di e-commerce È per quello Durante questa mattinata Allora la nostra visione del e-commerce Guardi che avviene in tutti quanti i settori Merceologici La nostra visione dell'e-commerce È che l'e-commerce Avrà sicuramente questa straordinaria accelerazione Che in Italia non ha ancora avuto E quindi noi ci stiamo preparando Questo Noi crediamo però che nel settore Dell'uso e nel settore del prestigio Più che di e-commerce parleremo di omnicanalità Di? Omnicanalità Ok Il consumatore vorrà comprare l'e-commerce Ma continuare a frequentare il punto di vendita Andare sul punto di vendita E magari comprare online dal punto di vendita Oppure comunque avere una consulenza All'interno del punto di vendita E comprare online E questa se vogliamo L'evoluzione della shopping experience Quindi comunque anche i nostri punti di vendita Dovranno evolvere in quella direzione Se mai non l'abbiano già fatto fondamentalmente Ma comunque Il fatto di avere la filiera completa O comunque essere a 360 gradi Presenti Su questa modalità distributiva Secondo noi è un modello vincente Fatto noi direttamente E fatto anche con i nostri partner Voglio dire Anche ovviamente con Fabio Pampani Con Douglas E un altro caso In cui vogliamo accelerare insieme Ma in questa direzione Io mi permetto di dire Che l'online è stata l'enfatizzazione Di un'opportunità Per il mondo del prestigio E del lusso straordinario Il lusso e il prestigio vince Non solo nella cosmetica Grazie al passaparola La piattaforma online È un'enfatizzazione Della possibilità Di raccontare All'amica Alla vicina Che hai a cena La superiorità Dei prodotti Di prestigio E del lusso E su questo Si può fondare Il successo Dell'online E del digital Anche da un punto di vista Distributo per l'azienda Un'altra cosa Per un marchio globale È molto riconosciuto In tutto il mondo Come quelli che avete voi Quanto conta Il consumatore Diciamo Il viaggiatore Il turista Quello che arriva in Italia E si ferma E compra un prodotto Che ha comprato anche Nel proprio paese Vostro Conta tantissimo Perché queste migrazioni Di turisti Che stanno Devo dire In Italia Non abbiamo Dei numeri Di grandissima crescita Però abbiamo Dei numeri importanti Che quindi Dobbiamo essere In grado Di catturare E poi abbiamo Lo spostamento Di turismo Da popolazioni Meno interessate Allo shopping Tipo le popolazioni Anglosassone O del Nord America Rispetto alle popolazioni In Italia O del Medio Oriente O i russi Che invece Sono molto più Interessati All'esperienza D'acquisto Devo dire Che dobbiamo Guardare Con grandissima Attenzione A queste migrazioni E quindi Fondare anche Le nostre strategie Anche di tipo Distributivo In modo tale E come si fa Fondare una Beh guardi Banalmente Qui torniamo Al basics Cioè noi abbiamo Dei modelli distributivi Fisici Che in Italia Ma questo lo vediamo Quando andiamo Voglio dire Al mare nel weekend O in montagna Che non hanno O anche Nelle grandi città turistiche Che non hanno mai Badato così tanto A questo Fondamentalmente Quindi creare Anche una piattaforma Distributiva Che colga Queste opportunità È una prima risposta Banale Ma in realtà Che può dare Può dare dei grandi risultati Quindi aprire anche Nelle stazioni turistiche Banalmente Anche con dei piccoli Monomarca Magari da 20-30 metri quadri Può essere È una cosa A cui voi siete interessati Invece Negli hub Cioè aeroporti Stazioni Quello ha un peso Straordinario Straordinario Adesso io Non ho sotto La mia responsabilità La gestione degli aeroporti Che è gestito A livello globale Dal travel retail Però noi ad esempio Stiamo investendo anche Tantissimo sulle stazioni Anche con dei monomarca Oppure dei partner Comunque Essere destination Cioè quindi Imporre al consumatore Di andare Là dietro la via Perché c'è il tuo punto di vendita Non esiste più Come ricetta Bisogna andare là Dove c'è il traffico E catturare il traffico E catturare Ci deve passare sopra Deve passarci Assolutamente E vale anche per un marchio Importante I marchi importanti come i vostri Assolutamente Non c'è una Infedeltà totale Beh ma Allora L'infedeltà è insita Nelle modalità di consumo Dei nostri prodotti Cioè Comunque La consumatrice Parlo più Parlo più Delle donne Comunque Può diventare fedele A un prodotto storico Icona Ma fondamentalmente Entra in profumeria La prima cosa che chiede È cosa c'è di nuovo Fondamentalmente Vuole provare delle cose nuove E vuole provare anche altri brand Noi dobbiamo dare questo per scontato Assolutamente Far crescere il mercato Far crescere la totale del mercato Che peraltro cresce Abbiamo visto Abbiamo visto i numeri E diventare interessanti Dando per scontato Che a un certo punto Si passa anche attraverso i concorrenti Poi se l'infidelità è tra i nostri marchi Tanto meglio Sicuramente Grazie Grazie a lei Grazie